Ma creare sistemi che sfruttino un vantaggio enorme e che vanno non bene out of sample, allora lì strategia conto non tiene, qualsiasi altro composer non tiene, perché quelli sono un ammasso di filtri e fanno poi fighi, no? Ah, ho creato il mio composer, il composer, lo chiameremo il composer della madonna, e fanno i fighi, ah, testi, fai, disfi, e mettono in realtà tre filtri uno dietro l'altro. Ah, guardate questi qui di là in che sale. Ah, bravo, cioè che cacchio vuoi da me? E come, ripeto, fare un canestro, fare canestro in un canestro all'argo 16 metri. Va bene così, bravo, noi ci vogliamo tutti bene, però capisci che, insomma, l'obiettivo è fare canestro e il canestro di 16 metri non è granché. Il nostro obiettivo è vincere la partita, ok? Il problema non è l'equità in che sale, il problema è fare soldi live. Allora, come fai a fare soldi live? Ti serve un vantaggio forte, quindi qualcosa che il mercato ti dà. Un vantaggio forte che viene sfruttato e che può rendere stabili i sistemi anche al futuro. È questo il trick. Non c'è una via di mezzo, non c'è modo, perché sennò poi siete lì a mettere live i sistemi, ah, mi sei rotto, ah, però è successa questa cosa mai vista prima, no? Chi perde soldi, soprattutto con i trading system, lasciamo stare in modo discrezionale, che va bene, soprattutto con i trading system, c'è sempre in bocca queste parole qua, eh, ma perché questo fatto non è mai successo prima? Ma va? Si chiama vita, si chiama mondo, è ovvio. Cioè, cosa ti aspetti? Che metti sul trading system e fai esattamente le stesse performance del passato? Ehi, che cos'è, il mondo di pollicino e di biancaneve, dai! È normale che sia così? Non è normale che la prima cosa che succeda di strano, il tuo sistema si rompa. Lì c'è qualcosa che non va, ok? Quindi, mi raccomando, provate l'Interstellar. Io vi ho fatto vedere alcune cose, perché ci tengo, perché vi voglio guidare, però per la prima volta potete provarlo voi. Cioè, mettete, usate sto cacchio di mouse e provatelo. Stressatelo. Se vi piace creare equity line che salgono, siete a posto, se proprio siete in una botte di ferro, andate sereni in tre giorni, quanto manca? Fino al 20 marzo, a cinque giorni, potete creare tutte le equity line che volete, senza alcun problema. Poi lo testate, lo testate è out of sample, se volete testare out of sample. A me non piace particolarmente come test, però capisco che sia immediato. Testatelo. Testatelo. Vedetelo. Avete fino al 20 marzo. e se volete combinare le cose, quindi equity line che sale, vantaggio forte che c'è il future satellite dentro, e live, parte out of sample, parte monetariamente rilevante, che funziona, ah beh, allora siete a posto. Ragazzi, siete a posto. Questa roba vi sistema.